ma ma non ci credo ok iniziamo di nuovo, Half-Life 2 episodio 1 siamo al buio che zombie che li accadono a tutte le parti o ci sono quegli zombie bastardi quelli che che lanciano l'adilanica chiaramente non ho quanto più che ho tolto sono morto non mi avevo mai 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 mi avevo mai ci sono mortali ma io dico ma che cacchio è io non ci credo veramente ma hai visto che casino che è? ma ti rendi conto al casino che è? c'è dice pallotto le idee di coso qua mamma mia and here comes trouble se hai fatto pallotto e ancora non muoio ma che ne sono pazzo? no non capisco fai due tre quattro colpe ma se hai santa colpe non muoio ma che vuol dire ma non capisco ma che vuol dire è sempre la ma se è stupendo ma non capisco 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 non capisco ma non capisco Sì, It's like I'm dead Sì, It's like she's dead Ok, ok, significa Ma è incredibile C'è qualcosa che... Aspettiamo se c'è l'escenza, non arriva mai! No, la metta! Ma è un pedido! Oh, la metta! Ma io non mi voglio parlare, non mi voglio parlare! Nel città! Non io non provo a chianda, non ci vuole! c'è l'inferno proprio, l'inferno io mi ricordo che una volta con un po' di pressi crepavano e poi sono venuto a morire, subito quattro minuti c'è ma quattro volte sono morto qua, veramente non lo so ma che... mi permette che mi piacuta così tanto morire da tutta volta che proprio tutti ci sanno ammazzate o sono strappato praticamente c'è l'inferno 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 Sì! 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 il casino ok la foto 8.4 la musica è basso veramente perchè non c'è da ma mettiamo che schifo la bocce deve mettere no l'uomo 8 minuti di morire proprio come porto del studio no 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 non vado a mettere mille morti per i pochi questo ha detto ma la mia è la morte la ragganda per un giorno oh 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 ahah tu ti infecti город si decide di morire di canzino mamme veramente il km混 ai video è un prem mundane ii non ti capisce non che capisce cos'è che ti ammazza che non ti ammazza non si capisce niente help help Sì, sì, sì. no ok 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 no o a via un un chiaramente non si può fare niente la cosa migliore è stare lì fermo ad aspettare però se il capo è stato un gioco oh i bianni dei bianni 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 formiche leone l'attacco formiche leone l'attacco formiche leone l'attacco formiche leone sono stressato sono stressato che forse quante morte che abbiamo fatto cioè sono stressato davvero non ci deve combattere io dovevo fare lì aspettare che mi nasce il sole e ci pensava lei a questo punto non si potrebbe fare niente lei è immortale a questo punto è mortale 100 volte granate granate è un casino ma poi tutti gli zombie del mondo sono spuntando tutti gli zombie granate e granate non morivano ma poi ho fatto quanto colpi aveva avuto il fucile scusa pochissime non si può fare niente questo non è mortale il pallotto è infinito eeeh ti metti in là un angolo e fai fuori da 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 d da 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 di giorno vuol dire che c'è luce luce del sole Sì Sì Andiamo a fare il video Gioco Vado a fare... Un attimo di meditazione, veramente Che dice quello? Ah! Ho capito? Ho capito Sì 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 Ascema! Oh, calmate Ragazzi Calmatele più, ho capito? Eh ah Forza usa la cosa Vai bene Sì, è vero, è vero, è vero. As we once learned, to our dismay, even the relatively tiny fracture at Black Mesa gave our enemies an opening which they were able to force ever wider as they poured through in greater and greater numbers. In addition to the completely xenophoric species, there are many modified post-human allies still remaining on Earth who will be doing their utmost to re-establish lines of communication and supply with the larger forces. Even so, there is greater reason for hope now than at any time in the past decade. We have made, in secret, several technological advances which we will do our best to deploy in advance of the Combine's return. We continue to diligently assemble and train a new generation of scientists and technicians. For what the Combine fear the most is not any tangible human weapon, but our will, our intellect, our ability to respond selectively and rationally to every terror they turn against us. We place our firmest hope in the human spirit, even going how easily it may be shut down. Ciao, ciao!